250 Hz, lettura ad alta voce, un podcast di Casa delle Culture. Ascoltare una storia è come aprirsi al cambiamento. Le nostre anime di notte di Kentarouf. Legge Sonia Antinori. Parte prima. E poi ci fu il giorno in cui Eddie Moore fece una telefonata a Lewis Waters. Era una sera di maggio, appena prima che facesse buio. Vivevano a un isolato di distanza in Cedar Street, nella parte più vecchia della città. Olmi e bagolari e un solo acero, cresciuti sul ciglio della strada e prati verdi che si stendevano dal marciapiede fino alle case a due piani. Era stata una giornata tiepida, ma di sera aveva rinfrescato. Dopo aver camminato sotto gli alberi, la donna svoltò all'altezza della casa di Lewis. Quando Lewis le aprì la porta, lei disse «Posso entrare a parlarti di una cosa?» Sedettero in salotto. «Vuoi qualcosa da bere? Un tè?» «No, grazie. Non so se mi fermerò abbastanza per berlo». Si guardò intorno «È graziosa la tua casa?» Diane l'ha sempre tenuta bene. Un po' ci provo anch'io. «È ancora graziosa», disse lei. Erano anni che non ci venivo. Guardò fuori dalla finestra, verso il cortile laterale. La notte si stava accomodando fuori e dentro la cucina. Una luce illuminava il lavandino e il bancone. Tutto sembrava pulito e ordinato. Lui la stava guardando. Era una donna attraente, l'aveva sempre pensato. Quando era più giovane aveva i capelli scuri, ma ormai erano bianchi e li portava corti. Era ancora in forma, solo un po' appesantita in vita e sui fianchi. «Probabilmente ti stai chiedendo cosa ci faccio qui», disse lei. «Beh, non penso tu sia venuta per dirmi che casa mia è graziosa. No, volevo suggerirti una cosa. Eh? Sì, è una specie di proposta. Ok. Non di matrimonio», disse lei. «Non pensavo neppure questo. Però c'entra con una specie di matrimonio. Ma ora non so se ci riesco. Ci sto ripensando. Fece una risatina. In un certo senso è un po' come un matrimonio, non ti pare? Che cosa? L'indecisione? Può darsi. Sì, insomma, adesso te lo dico». «Dimmi», disse Luis. «Mi chiedevo se ti andrebbe qualche volta di venire a dormire da me». «Cosa? In che senso? Nel senso che siamo tutti e due soli. Ce ne stiamo per conto nostro da troppo tempo. Da anni. Io mi sento sola. Penso che anche tu lo sia. Mi chiedevo se ti andrebbe di venire a dormire da me la notte e parlare». Lui la fissò. Rimase ad osservarla incuriosito. Canto. «Non dici nulla? Ti ho lasciato senza parole?» chiese lei. «Penso proprio di sì». «Non parlo di sesso?» me lo stavo chiedendo. «No, non intendo questo. Credo di aver perso qualsiasi impulso sessuale un sacco di tempo fa. Sto parlando di attraversare la notte insieme e di starsene al caldo nel letto come buoni amici. Starsene al letto insieme e tutti fermi a dormire. Le notti sono una cosa peggiore. Non trovi? Sì, credo di sì. Alla fine per addormentarmi devo prendere delle pastiglie. Leggo fino a tardi e poi il giorno dopo mi sento indontita. Totalmente inutile per me stessa e per gli altri. È successo anche a me. Eppure, se ci fosse qualcuno al letto con me, credo che ricomincerei a dormire bene. Una persona carina, un senso di intimità. Parlare di notte a buio. Rimasi in attesa. «Cosa ne pensi?» «Non so, quando vorresti cominciare?» «Quando vuoi.» «Ammesso che tu ne abbia voglia», rispose lei. «Questa settimana?» Dammi un po' di tempo per pensarci. «Va bene, ma chiamami prima. Se e quando deciderai di venire, così saprò che ti devo aspettare». «D'accordo. E spero proprio di sentirti. E sei poi russo? Ah, vorrà dire che russi. Oppure imparerai a non farlo». Luis scopiò a ridere. Sarebbe una novità. Eddie si alzò e uscì per tornare a casa. Lui rimase sulla porta a guardarla. Una donna di 70 anni di corporatura media, con i capelli bianchi, che si allontanava sotto gli alberi, passando attraverso le chiazze di luce proiettate dal lampione all'angolo della strada. «Ma che diavolo!» si disse. «E adesso cerca di non essere precipitoso». Il giorno dopo, Luis andò in Main Street per farsi accorciare e sistemare i capelli. Una specie di taglio a spazzola. E chiese al parrucchiere se ci fosse ancora qualcuno che si faceva fare la barba. Lui rispose di sì. Quindi si fece anche radere. Poi tornò a casa. Chiamò Eddie e le disse «Vorrei venire da te stasera, se sei sempre dell'idea». «Sì», rispose lei. «Mi fa piacere». Luis consumò una cena leggera. Soltanto un panino e un bicchiere di latte. Non voleva sentirsi goffo e appesantito una volta a letto con lei, quindi fece una lunga doccia calda strofinandosi a fondo. Si tagliò le unghie delle mani e dei piedi e la sera uscì dalla porta sul retro e percorse il vialetto posteriore con un sacchetto di carta che conteneva pigiama e spazzolino da denti. Il vialetto era buio e i suoi piedi facevano un rumore fastidioso sulla ghiaia. Dalla casa sull'altro lato della strada proveniva una luce. vide una donna di profilo accanto al lavandino della cucina. Proseguì fino al cortile sul retro della casa di Eddie Moore. Ci entrò, superò il garage e il giardino e bussò alla porta posteriore. Attesi un po'. Un'automobile percorse la via di fronte alla casa con i fari che brillavano. Sentiva i ragazzi delle superiori che si salutavano suonando il claxon lungo Main Street. Poi, sopra di lui, si accese la luce della veranda e la porta si aprì. «Cosa ci fai qui dietro?» chiese Eddie. «Ho pensato che così è più difficile che qualcuno mi veda». «A me non interessa, lo verranno a sapere. Qualcuno ci vedrà. Passa dalla strada e entra dalla porta principale. Ho deciso di non badare a quello che pensa la gente e l'ho fatto per troppo tempo. Per tutta la vita». «Non voglio più vivere così. Dà l'idea che stiamo facendo qualcosa di sbagliato o scandaloso. Qualcosa di cui vergognarci». «Ho fatto l'insegnante in questa cittadina troppo a lungo», disse lui. «Ecco il problema. Però va bene. La prossima volta entrerò dalla porta principale». «Ammesso che ci sia una prossima volta». «Non pensi che ci sarà?» chiese lei. «È solo un mordi e fuggì?» «Non lo so. Forse. Sesso a parte, non so proprio come andrà». «Non puoi avere un po' più di fiducia?» domandò lei. «In te sì. Posso avere fiducia in te. Lo vedi. Ma non sono ancora sicuro di riuscire a essere come te». «Di cosa stai parlando? A cosa ti riferisci?» «Al coraggio», rispose lui. «All'essere disposti a rischiare». «Sì, però sei venuto». «È vero, sono qui». «Quindi farai meglio entrare. Non è che dobbiamo stare qui fuori tutta la notte, anche se non c'è niente di cui vergognarsi». Lui la seguì in cucina passando per la veranda posteriore. «Prima di tutto beviamo qualcosa», disse lei. «Mi pare una buona idea». «Il vino lo bevi?» «Un po'. «Ma preferisci la birra?» «Sì». «Prenderò delle birre per la prossima volta». «Se ci sarà una prossima volta», disse lei. Luis non sapeva se Eddie stesse scherzando oppure no. «Se ci sarà», rispose. «Preferisci bianco o rosso?» «Bianco, grazie». Prese una bottiglia dal frigorifero, versò mezzo bicchiere a ciascuno e insieme si accomodarono al tavolo della cucina. «Cosa c'è quel sacchetto di carta?» chiese Eddie. «Il pigiama». «Il che significa che sei pronto a provarci almeno per questa volta?» «Sì, proprio così». «Bevere il vino». «Ne vuoi ancora?» «No, direi di no». «Potremmo fare un giro della casa?» «Vuoi che ti faccia vedere le stanze e com'è sistemata?» «Vorrei soltanto saperne di più sul luogo in cui mi trovo». «Così, se ce ne sarà bisogno, potrai sgusciare fuori nel buio». «Beh, no, non ci avevo nemmeno pensato». Eddie si alzò e lui la seguì in sala da pranzo, in salotto. Poi lei lo condusse alle tre camere da letto al piano di sopra. La sua era quella grande sul davanti, affacciata sulla strada. «Questa è la stanza dove dormivamo», disse lei. La camera sul retro era di Jean e l'altra la usavamo come ufficio. C'era un bagno in fondo al corridoio e un altro fuori dalla sala da pranzo, al piano di sotto. Il letto in camera di lei era molto grande, con una sopra coperta in cotone leggero. «Che te ne pare?», domandò Eddie. «È più grande di quanto pensassi. C'è molto spazio. Siamo stati bene in questa casa. Ci vivo da 44 anni. Due anni dopo che io e Diane siamo tornati ad abitare qui, un mucchio di tempo fa». «Vado un attimo in bagno», disse Eddie. Mentre lei non c'era, Louise si mise a guardare le foto sulla cassettiera e quelle appese al muro. Foto di famiglia con Carl, il giorno del matrimonio, sui gradini di una chiesa chissà dove. Loro due in montagna accanto a un torrente. Un cagnolino bianco e nero. Louise conosceva un pochino Carl. Un bravo uomo, piuttosto tranquillo. Vent'anni prima vendeva assicurazioni sul raccolto e altre polizze in tutta la contea. L'avevano anche eletto sindaco di Holt, per due mandati. Non era mai arrivato a conoscerlo bene. Cosa di cui in quel momento era ben contento. C'erano foto del figlio e due della figlia da ragazzina. Jean non assomigliava ai genitori. Un ragazzo alto e magro, molto serio. Quando lei tornò, lui disse, vado anch'io in bagno. Ci entrò, usò il water e si lavò scrupolosamente le mani. Spremette un po' del dentifricio di Eddie sullo spazzolino e si lavò i denti. Poi si tolse le scarpe, si spogliò e si infilò il pigiama. Posò i vestiti piegati sulle scarpe che lasciò nell'angolo dietro la porta e tornò in camera. Lei si era messa la camicia da notte ed era a letto accanto alla vajura accesa. Il lampadario era spento e la finestra socchiusa. Soffiava una brezza fresca e leggera. Lui si fermò vicino al letto. Lei ripiegò il lenzuolo e la coperta. Non vieni sotto? Ci stavo giusto pensando. Si infilò al letto dall'altro lato. Si coprì bene e si mise su pino. Non disse una parola. «A cosa pensi?», chiese lei. «Sei molto silenzioso. A quanto è strano. Alla novità di trovarmi qui. A quanto mi sento insicuro. Persino un po' nervoso. Non so cosa pensare. Che casino! È una novità, vero?», osservò lei. «Una bella novità, oserei dire. E per te? Anche per me. Cosa fai prima di dormire?» «Oh, guardo il telegiornale delle dieci, mi metto a letto e leggo finché mi addormento. Ma non so se stanotte riuscirò a dormire. Sono troppo agitato. Adesso spengo», disse lei. «Possiamo continuare a parlare?» Si girò nel letto e lui le guardò le spalle nude, lisce e i capelli chiari, alla luce della vasur. Poi ci fu il buio. Solo la luce della strada rischiarava debolmente la stanza. Parlarono di cose di poco conto, per iniziare a conoscersi. I piccoli fatti di ogni giorno. la salute dell'anziana signora Ruth, una vicina di casa, la pavimentazione di Birch Street. Quindi rimasero in silenzio. Dopo un po', lui disse, «Sei ancora sveglia?» «Sì. Mi hai chiesto cosa pensavo. Stavo pensando una cosa. Sono contento di non aver conosciuto bene Carl. Perché? Non sarei così a mio agio qui se l'avessi conosciuto meglio. Però io conoscevo Diane abbastanza bene». Un'ora dopo, lei dormiva. respirava senza far rumore. Lui era ancora sveglio. La stava guardando. Riusciva a vederle il viso in quella luce fioca. Non si erano nemmeno sfiorati. Alle tre del mattino si tirò su per andare in bagno e al ritorno chiuse la finestra. Si era alzato il vento. All'alba si alzò, si vestì in bagno e guardò di nuovo Eddie Moore, che era ancora a letto. Era sveglia. «Ci vediamo», disse lui. «Davvero?» «Sì». Uscì e si diresse a casa sua passando accanto a quelle dei vicini e una volta arrivato entrò, si fece il caffè e mangiò pane tostato e uova. Andò a lavorare in giardino per un paio d'ore, poi tornò in cucina, pranzò presto e nel pomeriggio dormì profondamente per due ore. Quando si svegliò, si rese conto di non stare bene. Si alzò e beve dell'acqua. Si sentiva la febbre. Ci pensò per un po', poi decise di chiamarla. Al telefono disse «Ho fatto un sonnellino, mi sono appena alzato e non mi sento bene. ho male allo stomaco e anche alla schiena. Mi dispiace, stasera non vengo». «Va bene», disse lei e rilanciò. Luis chiamò lo studio medico e prese appuntamento per il mattino successivo. Si mise a letto presto. La notte era sudato fradicio e non riuscì a dormire. Quando si alzò non aveva voglia di mangiare e alle dieci andò dal dottore che lo mandò all'ospedale a fare gli esami del sangue e delle urine. Attesi i risultati nell'atrio, quindi lo ricoverarono per un'infezione alle vie urinarie. Gli diedero degli antibiotici. Dormì per gran parte del pomeriggio e di nuovo rimase sveglio quasi tutta la notte. Il mattino dopo stava meglio e gli dissero che probabilmente sarebbe stato dimesso l'indomani. Fece colazione, pranzò e dopo un breve sonnellino verso le tre quando si svegliò sulla sedia accanto al letto c'era lei. La guardò. Non mi stavi prendendo in giro allora disse la donna. Pensavi di sì? Ho pensato che mi stessi semplicemente dicendo che non ti andava che avevi deciso di non voler passare le notti con me. Temevo che tu potessi pensarlo. Credevo che non sarebbe più successo disse lei. Ti ho pensato tutto il giorno ieri, stanotte e oggi disse. E che cosa hai pensato? Che potevi aver frainteso la mia telefonata e a come spiegarti che voglio continuare a passare le notti insieme a te. Al fatto che questo mi interessa più di qualsiasi altra cosa da molto tempo in qua. e allora perché non mi hai chiamato per dirmelo? Ho pensato che sarebbe stato peggio che poteva suonare ancora più falso. Potevi provarci avrei dovuto come hai fatto a sapere che mi avevano ricoverato? Stamattina stavo parlando con Ruth la vicina e lei ha detto hai sentito Luis? E le ho risposto no dimmi è all'ospedale che cosa ha? Un'infezione o qualcosa del genere dicono è così che l'ho saputo concluse Eddie non ho intenzione di mentirti disse lui bene nemmeno io quindi verrai ancora? Appena starò bene sarò sicuro di essere guarito mi fa piacere vederti grazie ora come ora hai un'aria un po' malconcia non ho avuto ancora tempo di truccarmi lei rise non importa rispose non volevo essere scortese era solo un commento una constatazione tu invece mi sembri piuttosto in forma osservò lui hai chiamato tua figlia? le ho detto di stare tranquilla ancora un giorno ed esco niente di preoccupante non occorre che prenda un permesso non c'è bisogno che mi venga a trovare in questo momento vive a Colorado Springs lo so è un insegnante come me poi smise di parlare vuoi qualcosa da bere? posso chiamare l'infermiera? no ora vado appena torno a casa mi sento bene ti chiamo bene disse lei ho già comprato la birra se ne andò lui la osservò uscire dalla stanza e rimase a letto in attesa di riaddormentarsi ma gli portarono la cena così guardò il telegiornale mentre mangiava e poi spense la tv si mise a fissare fuori dalla finestra e vide che stava diventando buio sulle vaste pianure a ovest della città il pomeriggio seguente venne dimesso dall'ospedale ma la sua malattia doveva essere stata più seria di quanto avessero pensato e ci mise quasi una settimana per rimettersi completamente per sentirsi abbastanza bene da chiamarla e chiederle se quella sera poteva andare da lei stavi ancora male? sì non so come mai ho impiegato così tanto a riprendermi si fece la doccia si rase mise il dopo barba e quando fece buio prese il sacchetto di carta con il pigiama e lo spazzolino e uscì dalla porta principale passò davanti alle case dei vicini e bussò alla porta eddy arrivò subito bene hai un aspetto migliore entra i capelli spazzolati all'indietro le lasciavano scoperto il volto era graziosa sedettero come la volta precedente al tavolo della cucina a bere e chiacchierare un po' poi lei disse direi di andare di sopra tu? sì eddy mise i bicchieri nel lavandino e lui la seguì su per le scale luis andò in bagno si mise il pigiama e ripiegò i vestiti nell'angolo quando entrò in camera lei era a letto in camicia da notte gli scostò la coperta e lui si sdraiò la volta scorsa non hai lasciato qui il pigiama anche per questo credevo che non saresti più tornato ho pensato che poteva sembrare presuntuoso come se stessi dando tutto per scontato in realtà non ci eravamo ancora detti molto beh d'ora in poi puoi lasciare qui pigiama e spazzolino disse la donna così evito di consumare i sacchetti di carta commentò lui sì proprio così hai in mente qualcosa di cui hai voglia di parlare chiese lei niente di importante è giusto per rompere il ghiaccio più che altro ho un mucchio di domande da farti ne ho qualcuna anch'io replicò lei ma tu cosa vuoi sapere mi chiedevo come mai hai scelto proprio me non ci conosciamo poi così bene credi che avrei potuto scegliere chiunque che io voglia soltanto qualcuno che mi scaldi il letto di notte un anziano qualsiasi con cui parlare non pensavo questo ma non so perché hai scelto me ti dispiace che io l'abbia fatto no per niente sono soltanto curioso me lo stavo domandando perché credo che tu sia una brava persona una persona gentile spero di esserlo secondo me lo sei e ho sempre pensato che fossi degno di stima qualcuno con cui avrei potuto parlare e tu cosa pensavi di me ammesso che tu lo abbia mai fatto ho pensato a te rispose lui in che modo come a una donna attraente una persona di spessore con un carattere perché dici così per come vivi per come hai gestito la tua vita dopo la morte di Carla di sicuro per te è stato un periodo difficile le disse ecco cosa voglio dire so come stavo io dopo che è morta mia moglie e visto che tu stavi reagendo meglio di me è una cosa che ho ammirato non sei mai passato a trovarmi non hai mai fatto lo sforzo di dirmi una parola disse lei non volevo sembrare invadente non lo saresti stato ero molto sola lo immaginavo ma non ho fatto niente allo stesso che altro vuoi sapere da dove vieni dove sei cresciuta come eri da ragazza come erano i tuoi genitori se hai fratelli e sorelle come hai conosciuto Carl che rapporti hai con tuo figlio come mai ti sei trasferita a Holt chi sono i tuoi amici in che cosa credi che partito voti ci divertiremo un sacco a parlare disse lei anch'io voglio sapere tutto di te non abbiamo fretta disse lui no prendiamoci il tempo che ci serve lei si girò nel letto e spense la bajour e di nuovo lui si mise a guardarle i capelli che brillavano alla luce e le spalle nude poi nel buio lei gli prese la mano disse buonanotte e poco dopo si addormentò per lui era sorprendente la velocità con cui Eddie riusciva ad addormentarsi l'indomani mattina Louis lavorò in cortile e tagliò il prato poi pranzò e fece un breve sonnellino quindi andò al bar a bere il caffè con un gruppo di uomini con cui si trovava ogni due settimane uno di loro era un tipo che non gli piaceva particolarmente l'uomo disse vorrei avere la tua energia come mai per stare fuori tutta la notte e averne ancora abbastanza per funzionare il giorno dopo Louis lo guardò per un istante sai disse ho sempre sentito dire che con te nessuna storia è al sicuro ti passa direttamente dalle orecchie alla bocca al posto tuo in una cittadina di queste dimensioni eviterei di farmi la fama del bugiardo che racconta le cose a modo suo una reputazione del genere ti seguirebbe ovunque l'uomo fissò Louis osservò gli altri che seduti intorno al tavolo stavano guardando dappertutto tranne che dalla sua parte si alzò e uscito dal bar si allontanò lungo Main Street non credo che abbia pagato il caffè disse uno di loro ci penso io disse Louis ci vediamo dopo ragazzi andò al bancone pagò il caffè e si incamminò verso Sether Street una volta a casa uscì in giardino e continuò a zappare per un'ora con forza quasi violentemente poi rientrò si preparò un hamburger e beve un bicchiere di latte infine si fece la doccia e si rase quando scese il buio tornò da Etty durante la giornata aveva pulito a fondo la casa aveva cambiato le lenzuola del letto al piano di sopra si era fatta un bagno e per cena aveva mangiato un panino all'imbrunire andò a sedersi in salotto silenziosa immobile immersa nei suoi pensieri aspettando che Luis bussasse alla porta mentre si faceva buio quando finalmente arrivò lo fece entrare si accorse che qualcosa era cambiato cosa c'è che non va gli chiese te lo dico tra un minuto prima mi dai qualcosa da bere? certo andarono in cucina lei gli diede una birra e si versò del vino lo guardò in attesa il nostro non è più un segreto esordì lui sempre che lo sia mai stato come fai a saperlo? cosa è successo? conosci Dorland Baker? era il proprietario del negozio di vestiti da uomo? sì l'ha venduto ed è rimasto a Holt tutti pensavano che se ne sarebbe andato da qualche altra parte sembrava che questo posto non gli piacesse proprio l'inverno lo va a passare in Arizona e questo cosa c'entra con il nostro segreto è una delle persone con cui mi trovo al bar un paio di volte al mese oggi mi ha chiesto come faccio ad avere questa energia a star fuori tutta la notte e a fare comunque tutto durante il giorno cosa gli ha risposto? gli ho detto che si stava facendo la fama di pettegolo e bugiardo mi sono infuriato l'ho gestita male sono ancora inferocito si vede avrei dovuto semplicemente ignorarlo e sdramatizzare ma non l'ho fatto non volevo che si facessero delle cattive idee sul tuo conto lascia perdere Luis sapevamo fin dall'inizio che la gente l'avrebbe scoperto ne avevamo parlato sì ma non ci stavo pensando non ero pronto non volevo che si inventassero storie su di noi su di te lo apprezzo ma non possono farmi del male ho intenzione di godermi le nostre notti insieme finché dureranno lui la guardò perché dici così? sembra in me l'altro giorno non pensi che dureranno? magari anche per un bel po' spero di sì rispose lei ti ho già detto che non voglio più vivere in quel modo per gli altri per quello che pensano che credono non è così che si vive non per me almeno giusto vorrei avere il tuo buon senso hai ragione ovviamente ti è passata adesso? ce la sto mettendo tutta vuoi un'altra birra? no ma se tu vuoi un altro po' di vino sto qui con te mentre lo bevi ti guardo e basta avete ascoltato la prima parte di le nostre anime di notte di Kentarouf letto da Sonia Antinori per 250 Hz lettura ad alta voce un podcast di Casa delle Culture per la mia un'altra voce per la mia